. ciao a tutti gli italiani literini ciao literini allora siamo andati avanti ma queste sono le cucine che schifo! oh che schifo! ma dai ma cosa fai ti butti sopra le schifezze finestrella ehi, ehi si perde una testa sicuramente perché ora abbiamo capito che è l'anno delle delle teste allungabili no ci posso andare in po' puoi andare anche avanti e indietro non ci avrei pensato così immediatamente eh sono troppo forte le quadrati devono combaciare No, così Guarda fuori dalla finestra Rami? Sì Rami spettrali Oh no Di nuovo le cucine Sto cosa c'è il cucchiaio? Ok, sai cosa fare? Uh, sono tre Io ne vedo tre Eh, anch'io Ok, proviamo a prendere le stoffare e distrugirli tutti, dai Vediamo come ce la caviamo Che dici? Ecco allora Beh, sì, sicuro Potrebbe essere Io vedo che si muove Un po' Non è vero All'allucinazione Vai, dai Senta scrupoli Presto Dai, dai, ok Ok, l'altro uno si è mosso Però ne è arrivato un altro ancora Dove fare solo le cose Arrivano uno alla volta Sì, con tempistica E calma Ma c'è, guarda Un attimo Ma dai Peccato, abbiamo sbagliato di poco Anche quello è in muro Secondo me Secondo me Ci conviene che tu sconfiggi il primo Poi vieni un po' più indietro Avvicinata la camera Così vedi meglio Ok, aspetta un po', vieni proprio qua Ecco, ok Prendi la mira No Ma cosa? Le pentole Sono schifo le pentole Non mangerò mai più con le pentole No, mangiare quelle forchette Quelle posate Mori E tu? Muori Ok E tu cosa fai, eh? Mori Aspetta E tu? Precisamente Ah, peccato Decidi E si per una questione di tempistica Perché loro Si fermano un secondino Prima di lanciarsi Si fanno un effetto di rincorta Ecco se non si va lanciato Eppam Io vicino Eh ma dove l'ha lanciata Mi avvicino un po' così Le colpisco Eh Mm Eh 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 Oh 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 Boh Eh perché non vedi bene lì La possibilità Porca misera E' vero Eh Ciao a tutti Spacco tutto Vieni qua Piace Spacco tutto Vieni qua Non ce l'ho nel forno Devi stare calmo Non ti preoccupare Pamm anche la maschera nello scorso scorsi ciao ragazzi tutto posto eh? andiamo andiamo mi spinge quell'aria qua lo mettiamo cavolo sotto, di qua secondo me per fare il mio po' vedete se si deve qualcosa si è fortuno occhio che si ti cadono Ok, c'è un piraglio lì, cos'è? Ok Abbiamo fatto una fase stealth Non vuol dire che... ok No Eh, sì Pulsante, eh sì Però... È un'idea Prima... eh Poi succede qualcosa, eh? Avevo già visto le scale, stavo controllando Parrucca? Cervello È un cervello Eh, boh, prova a saltare e arrampicarti Ah, ho credito di salire sulla corda La vedi? Spingi, sì Ah, per andare d'altra parte Eh, mi devo spingere, no? Sì Bravissimo, no? Non far cadere il va Eh, ma questo sì Eh, facciamo cadere il cervello allora Cosa vuoi che ti dica? Che schifo che rumore Non so cosa serva Beh, proviamo E quello? Solo per scendere Ok Perché? Cos'è rimbalzo sul cervello? Perché? Per colpire Per colpire Per colpire Per colpire Ah Ecco perché Bene che mira No Cioè le, le famose rame di chi si erano prima aspettate per te Nooo Ma le frulla, vero? Non credo Solo che a questo punto non sappiamo Dove andare Vai a prendere gli ingredienti? No? Allora torniamo un attimo indietro Vediamo se c'è qualcosa che Che possiamo fare Questo? No? 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 Questo sopra? Questo qua? Solta Non puoi Niente Non so provare Provo Ti hai visto? Ah Ti hai visto? Ah Ti hai preso? No? Devo farmi vedere Corri, 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 corri Corri, 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 corri si sta fatta ha controllato tre volte eh no però questo secondo me è un bug si? si perchè è l'unico punto in cui non mi becca ritorna allora ragazzi ci fermiamo qua al prossimo episodio ciao a tutti quello